buon pomeriggio a tutti cari amici ebbene dopo aver parlato di calcio ora veniamo al wrestling americano e come vedete dall'immagine di convertina il grandissimo famosissimo e celeberrimo john cena ritornerà in wwe e lo farà nella puntata di friday night smackdown del 28 febbraio ovvero un giorno 24 ore dopo la disputa dell'evento pay per view in terra saudita super showdown molto probabilmente inizierà una rivalità con qualche superstar che culminerà sicuramente in quel di frestelmenia 36 che ricordiamo si svolgerà ad inizio aprile a tampa bay che se non ricordo male la città natale per quanto riguarda l'ultima puntata di ro ha registrato lo show rosso 2.337.000 telespettatori il dato è un rialzo rispetto a quello di sette giorni fa quando lo show registrò 2.168.000 telespettatori il dettaglio nelle quattro nelle tre ore questo nella prima 2.396.000 nella seconda 2.411.000 nella terza 2.204.000 e in chiusura di questo video purtroppo ai noi ahimè possiamo dire che il match tra belli contro carmela non si svolgerà più nell'evento saudita super showdown il 27 febbraio ma nella puntata di friday night smackdown di questa settimana quindi tra tra tre giorni e quindi è così purtroppo è così comunque l'importante di queste tre notizie la prima che john cena ritornerà in wwe lo farà smackdown il 28 febbraio ciao a tutti